allora qui le solite conversazioni però facciamo un ciclo un po diverso nel senso che vorremmo affrontare tre figure del cinema horror tra cui appunto gli zombie lupimannari e vampiri e iniziamo dagli zombie che sono stati strattati nel cinema inizio io e poi appunto seguono per farmi un po da da supporto e abbiamo abbiamo deciso di ancorarci diciamo su questo film di Zack Snyder che appunto l'alba dei morti viventi ma chiaramente è un film che è già citazionistico di suo e quindi è un film che inevitabilmente chiama tutto quanto un po l'universo degli zombie e quindi io prima di concentrarmi proprio nello specifico del film se ci se ci arrivo vorrei dire qualcosina su su questa su questa figura del cinema che secondo me è fondamentale e che almeno per come l'ho intesa io è veramente una metafora del dell'individuo contemporaneo cioè della contemporaneità che ha attraversato soprattutto tre grandi fasi che sono la prima grande fase quella antropologica magica con l'isola degli zombie dove appunto questi morti venivano risuscitati a seguito di un rituale magico appunto per essere schiavizzati poi c'è stato secondo me il secondo punto il secondo grande punto che è quello di romero dove abbiamo quest individuo massificato cioè io vedo proprio nel cinema di romero proprio lo zombie massa l'individuo massa e sta appunto al pari con la gli studi di sociologia che si diffondevano soprattutto in quel periodo e poi abbiamo quest'ultima fase che secondo me è molto interessante che stiamo un po vivendo noi che appunto quella di uno zombie di tipo laboratoriale ottimizzato e allora perché questa questo questa figura diciamo così del cinema è molto interessante in primo luogo mi vorrei soffermare proprio sul nome cioè il morto vivente già la contraddizione che qualsiasi filosofo teoretico non accetterebbe morto e vivente o è morto e vivente no invece qui dobbiamo già superare il principio di non contraddizione dobbiamo già entrare in uno scenario che è quello non appunto del ragionamento dobbiamo andare dobbiamo appunto obliterare la ragione per rapportarci alla figura dello zombie il morto vivente sia morto che vivente e questa è una figura una metafora estremamente interessante non solo perché abbraccia la contraddizione ma perché già una critica all'individuo cioè noi siamo più morti o siamo più vivi è un po questo che che a me spinge a a pensare quando almeno tutte le volte che ho visto un film sugli zombie e poi c'è un'altra grande contraddizione secondo me è centrale che più o meno rivisto un po in tutti quanti film che è il fatto che quando ci rapportiamo a questo questo genere di film ciò che è massimamente familiare ciò che dovrebbe essere lo spazio della protezione lo spazio della casa o della famiglia diventa effettivamente l'inquietante perché la prima scena appunto che apre l'alba dei morti viventi di zack snyder e questa questa coppia che sta dormendo nel letto improvvisamente la figlia è diventa appunto il perturbante diventa appunto lo spazio dell'unheimlich questa figura freudiana stra abusate di cui ormai parlano tutti quanti però effettivamente così gli zombie mettono nella condizione i protagonisti ma anche non i protagonisti insomma di dover uccidere padre deve uccidere il figlio il figlio il padre la madre la sorella il fidanzato quindi c'è la frattura totale dei legami sociali questi questi legami sociali sono infranti sotto la spinta di un impulso acefalo e cieco che spinge appunto verso verso dei luoghi e qua c'è secondo me il culmine dell'ironia in questo soprattutto nel ciclo di romero e che snyder riprende alla grande perché appunto se lo chiedono per quale motivo vengono qui loro si vanno a proteggere in questo centro commerciale insomma ad un certo punto e loro dicono beh ripercorrono un po quello che facevano tutti i giorni e tutti i giorni si diricevano verso questa sorta di santuario del consumo e qui il consumo c'entra c'entra molto perché un altro punto su cui mi sono un po soffermato nelle nelle mie riflessioni e il fatto che lo zombie non ha un vero e proprio morso ma appunto lacera divora divora l'altro il vampiro tende a preservare l'altro il morso del vampiro è anche difficile a volte da rintracciare sia stati morsi o non sia stati morsi invece nello zombie con lo zombie assistiamo costantemente a scene di squartamento di sventramento di smembramento il corpo dell'altro viene effettivamente proprio consumato viene distrutto viene annichilito viene divorato e lo stesso corpo dello zombie è un corpo è un corpo consumato e quindi siamo proprio in questa sotto il segno del consumo sotto il segno dell'annientamento e lo zombie non riesce a mordere senza divorare senza mangiare senza annientare l'altro così come il consumatore tendenzialmente si rapporta agli oggetti del mondo agli enti del mondo direbbe heidegger solamente per annientare per distruggere allora questi corpi diciamo così che vengono sventrati squartati divorati annullati sono proprio come dei corpi per utilizzare ecco un termine che che forzo un po secondo quelle quei contorcimenti filologici heideggeriani maializzati mi vorrebbe da dire quel consumatore è proprio il maiale che consuma qualsiasi cosa e che si fa consumare che si fa divorare da qualsiasi cosa e soprattutto il corpo dello zombie quindi un corpo tumefatto lacerato che appunto si muove attraverso un passo lento eccetera eccetera è un po' anche lo scandalo in una società che diventava la società dello spettacolo la società della perfezione la società insomma della della dell'estetica ecco diciamo così per alcuni aspetti ecco lo zombie ci fa paura perché appunto mostra questi corpi distrutti questi corpi che vengono fuori appunto dalle tombe ma soprattutto questo è un punto secondo me centrale ciò che fa paura effettivamente dello zombie c'è una scena bellissima in questo film di zack snyder dove loro sono fuori con questi questi pullman camion insomma più o meno un po corazzati diciamo così e c'è questa orda e l'orda è la massa il vampiro ci fa paura come singolo il lupo mannaro ci fa paura come singolo lo zombie singolo non ci fa paura lo prende a calci pure un bambino lo zombie ci fa paura come massa come massa come fiume massificato che appunto si muove sotto il segno di che cosa dell'inerzialità e attraverso la spinta di questi corpi l'uno sull'altro che si sfondano le barriere che si sfondano le protezioni che si bloccano appunto questi pullman che non si riesce a passare no e allora è questa è questo peso del cadavere e questo peso del cadavere che blocca la possibilità di scappare di fuoriuscire ecco da da una situazione di pericolo e allora c'è proprio questo senso dell'orda e qui vorrei fare una distinzione perché secondo me è fondamentale cioè il fatto che noi abbiamo un tipo di zombie nel cinema di romero ecco secondo me snyder fa una grande critica al al cinema al cinema di romero lo riprende si ma ci fa una grande critica perché il tratto fondamentale del cinema di romero e chiaramente è stracitato e poi c'è neanche bisogno di dirlo è il fa è il trionfo della massa è la massa è la massa è la massa che diventa dominatrice e signora del mondo è la massa da cui non si può fuggire ovunque si trovano masse di zombie non si può scappare da nessuna parte c'è c'è questa moltitudine di morti viventi ovunque e questo è proprio il trionfo della massa in snyder succede qualcosa di inizia a succedere qualcosa di diverso che poi però viene viene ripreso nell'ultimo film di zack snyder che ho visto che armi of the death dove appunto abbiamo uno zombie laboratoriale che è una macchina da guerra ma è uno ed è un leader addirittura il romero non esiste il leader degli zombie sono tutti quanti indistinti sono tutti quanti uguali è proprio siamo nella psicologia di massa di willem reich invece con snyder inizia ad entrare in scena un nuovo tipo di zombie una revisione ecco di di zombie che appunto questo questo zombie laboratoriale ottimizzato soggetto prestazionale uno zombie che deve essere sempre più potente aggressivo ma soprattutto individuo non è più massa inizia a essere individuo e perché noi non siamo più massificati non dobbiamo più essere appunto una massa indistinta e compie un movimento impersonale spersonalizzante come diceva marx nella fabbrica ma noi dobbiamo diventare soggetti sempre più prestazionali biopolitici biopoliticamente preparati biopoliticamente sempre più perfezionati e quindi dobbiamo costantemente certi autocertificarci prenderci titoli su titoli e così questi zombie laboratoriali acquisiscono competenze sempre maggiori e strategizzano lo zombie di romero non è uno zombie che ha una strategia si muove appunto su questa spinta inerziale della massa che cerca di sfondare le pareti ma non ha nessun tipo di strategia invece lo zombie di snyder inizia ad avere una strategia ed è uno zombie tutto nuovo nel cinema che secondo me prende anche un po film come io sono leggenda ma anche un po 28 giorni dopo anche se è diverso ma soprattutto una revisione dello zombie che viene fatta da un videogioco che è the last of us dove effettivamente gli zombie lì strategizzano hanno delle strategie cosa che era impensabile ecco nel nei 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 film di romero e quindi giusto per concludere così poi lascio un po la parola per non sforare troppo quello che effettivamente succede ecco questa figura che accompagna veramente il cinema perché l'isola degli zombie degli anni 30 se non ricordo male ecco effettivamente accompagna tutta quanta la cultura del novecento cioè dalla ritualistica antropologica magica dove appunto si resuscita attraverso dei codici attraverso delle attraverso delle delle pratiche magiche e tutto il resto si arriva appunto alla sociologia della massa all'uomo indistinto all'uomo massa consumatore consumato nel centro commerciale il centro commerciale come chiesa appunto di questa massa indistinta fino anche all'uomo ottimizzato biopolitico allo zombie prestazionale che appunto diventa sempre più competente che diventa sempre più anche veloce i zombie di romero sono caratterizzati dalla lentezza invece questi zombie in questi ultimi film sono veramente delle delle belve feroci ecco mi fermerei qui ho fatto un po' una carrellata un po' sul sul sullo zombie in generale lascio la parola a vaina grazie Marco hai già parlato di tantissimi argomenti io parlerò prima di tutto di di snyder perché con questo film che il suo film d'esordio ha fatto il botto ha fatto davvero botto non aveva ancora 30 anni e 100 milioni di dollari ecco è un regista che si ama o si odia personalmente io non ho non ho apprezzato 300 però mi è piaciuto molto watchman e pur non essendo una fan sfegatata dei film tratti da dai fumetti watchman mi è piaciuto molto e tra i film successivi devo dire che di suo visto solo sucker punch che ho trovato però inguardabile tornando al nostro remake si è un remake quindi abbiamo di nuovo un gruppo di sopravvissuti che si rifugia di nuovo in un centro commerciale e sì anche in questo caso abbiamo i sopravvissuti che ascoltano i discorsi in in tv memorabile a questo proposito il predicatore che afferma che i zombie sono la conseguenza della vita peccaminosa e la curiosità è che il questo predicatore dell'alba dei morti viventi di snyder e interpretato da ken for e che era il l'attore di zombie di romeo e inoltre in un cameo di snyder vediamo tom savini che oltre a essere uno dei più grandi truccatori del cinema horror in generale e sono suoi trucchi di venerdì 13 di maniac di the burning che per me è uno slasher molto migliore di venerdì 13 è stato un grande collaboratore di romero e fin dai tempi di di vampir e poi appunto di di zombie e savini tra l'altro è anche il regista del remake della notte dei morti viventi di romero quindi mi è piaciuto molto vedere questo questo cameo tornando al film vediamo che rispetto al remake o meglio scusate nel remake ci sono parecchie differenze come già appunto avevi detto tu marco rispetto al all'originale di romero innanzitutto il gruppo di altri sopravvissuti che raggiunge il centro commerciale non non è ostile come invece capitava con i motociclisti nello zombie di romero ma questi vogliono vogliono integrarsi e anche le persone diciamo che sembrano più resti all'integrazione non non sono un anno del atti di cattiveria gratuita insomma come capita in questi casi sono magari un po egoisti come il proprietario del della barca presso la quale dovrebbero rifugiarsi tutti però appunto non c'è proprio la figura del del classico cattivo che lo fa solo perché appunto è cattivo in quanto tale ma sono atti di sopravvivenza più che altro è una cosa che ho notato e che tra l'altro ci sono alcune secondo me alcune cose che sono state riprese da 28 giorni dopo appunto tipo questi gli infetti molto che si muovono molto velocemente e la scena nel sotterraneo dell'albero dei morti dei venti mi ha ricordato molto la scena del del sottopasso in 28 giorni dopo me l'ha ricordata proprio tantissimo per quanto riguarda invece il finale ecco il quest'isola mi ha ricordato un altro film di zombie che zombie 2 di lucio fulci e del quale appunto viene ripreso riferimento dell'isola però un'altra cosa che ho notato non potevano notarla è che lo stesso romero nei suoi film successivi a questo remake di snyder prende spunto prende spunto sia nella terra dei morti viventi che è di un anno successivo proprio a questo remake di snyder e dove ci sono anche lì dei mezzi corazzati che si fanno strada in mezzo alle orde di di zombie e poi nel nell'ultimo film di romero survival of the dead l'isola di sopravvissuti dove appunto diciamo la narrazione si svolge proprio su un'isola tornando a snyder allora io ho apprezzato molto la sceneggiatura che è di james gunn che io apprezzo fin dai tempi di tromeo in juliet mentre alcune soluzioni tipo insomma il parto avrei francamente evitato però lo trovo diciamo un film dalla buona tensione quindi secondo me rientra più nella nella categoria degli action zombie movie ecco dal punto di vista della tensione lo trovo sicuramente molto valido io l'avevo visto già al cinema quello l'ho rivisto per parlarne questa sera e quindi questi sono zombie a rapida trasformazione sono velocissimi non sono particolarmente intelligenti come alcuni degli zombie di romero ad esempio nel giorno degli zombie vi avevo ipotizzato questo boob che veniva un po' addomesticato e poi nella terra degli zombie in realtà romero identificava un po' il una specie di leader di questi zombie che insomma guida la massa quindi appunto non non è un vero e proprio leader questo per seguire il discorso che facevi tu poco fa però c'era insomma una forma di intelligenza comunque in questi zombie però del resto anche nel ritorno dei morti viventi che era dell 85 di ovannon che forse il primo film diciamo divertente sugli zombie anche in quel caso c'erano già degli zombie intelligenti parlavano e correvano ovviamente della storia diciamo dello zombie classico quello voodoo hai già parlato tu a me piace ricordare che Wes Craven che è un altro grandissimo regista che avevamo alla follia ha riportato un po' il diciamo lo zombie classico quello della della tradizione voodoo negli anni 80 con il serpente l'arcobaleno in un film che secondo me è straordinario se ne parla sempre troppo poco mentre romero per il suo film le notte dei morti viventi che secondo me ha cambiato la storia del cinema non solo quella dell'horror che meriterebbe ovviamente tutta una serata parte però si era sicuramente ispirato un po' al al romanzo di richard metterson io sono leggenda che era anche diventato film con l'ultimo uomo della terra con il grandissimo vincent price e anche un po l'estetica ricorda carnival of souls che era del del 62 romero dedicato praticamente tutta la sua vita agli zombie viene ricordato come papà degli zombie però ricordiamo per lui ha provato anche a fare altri film poi insomma per problemi di produzione non ha avuto particolare fortuna però viene viene davvero ricordato come il padre degli zombie e si è scritto tantissimo sulla sua trilogia zombie come nuova società la lotta al consumismo tutte cose che del resto hai già detto e adesso basta lascerei un po la parola barba allora io ammetto che voi avete già dato tantissimo la mia cultura in merita di zombie è molto limitata quindi vi chiedo già perdono se dico magari delle cose banali ma dico quello che che insomma sulla quale mi è venuto a riflettere ho letto un pochino soprattutto del film di cui parliamo questa sera e so che è stato aspramente criticato aspramente criticato da tanti punti di vista è un remake non è un remake è sicuramente un remake perché comunque alcuni punti sono talmente talmente sovrapponibili al film di romero che non è possibile non chiamarlo un remake ma anche un po la stereotipizzazione dei personaggi questo film è stato definito da chi l'ha criticato facciamo un po gli avvocati del diavolo da chi l'ha criticato un film vuoto perché tutta la critica sociale di romero a chi ha visto il film mi dico forse anche un po in maniera superficiale viene a meno quindi è definito un film di pure intrattenimento in cui appunto questi zombie corrono e non c'è più quell'inquietudine ma si basa molto più sullo spavento più che sull'inquietudine queste sono sono le critiche però mi viene da pensare che abbia ragione marco e anche vaina quando parlano del fatto che è però la figura dello zombie si deve se una critica alla società si deve evolvere come la società stessa e quindi ha fatto bene Snyder a metterci mano io l'ho trovato un bel film molto godibile e tra l'altro Snyder veniva da dei videoclip se non erro e ho trovato delle sequenze proprio iconiche ecco non sono d'accordo con vaina per me la scena del parto è proprio iconica proprio da da videoclip fine anni 90 inizio anni 2000 ed è un film che che rappresenta molto bene secondo me gli anni 2000 perché non solo trovo che gli zombie siano performanti ma anche questi personaggi molto stereotipati molto appiattiti se vogliamo no quindi la biondina che urla che perde il fidanzato che sembrava l'amore della sua vita dopo cinque minuti è già è già presa da altre cose no la l'amante dei cani la coppietta felice l'uomo di colore che ci tiene la famiglia sono tutti molto stereotipati e se vogliamo anche molto piatti quindi diciamo che secondo me Snyder non rende solo gli zombie performanti ma rende anche i suoi personaggi performanti cioè li utilizza per creare il mix perfetto dello zombie movie di intrattenimento però questo non lo trovo necessariamente una cosa negativa io ho trovato delle inquadrature anche molto belle anche se è stato criticato anche per per l'utilizzo del per gli scavallamenti di camera per ho letto critiche da ogni dove ma probabilmente i fedeli più fedeli di romero hanno trovato questo film quasi insultante no rispetto a tutta la filosofia dello zombie che che c'è dietro quindi simile ho visto questa cosa del 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 passaggio tra l'inquietudine dello zombie che cammina lentamente che si avvicina lentamente che ti zombifica lentamente il passaggio invece una cosa molto più veloce e sappiamo tutti che la società è diventata molto più veloce a partire dalla fine degli anni 90 in poi no tutto è diventato molto più veloce anche il cambio di emotivo di sentimenti quindi forse anche questa zombificazione veloce questo cambio repentino uno dei personaggi da tremendamente tristi a tremendamente coraggiosi a tremendamente innamorati forse proprio il significato di questo film che tutto va molto più veloce e quindi anche la zombificazione dell'essere umano è in realtà molto più veloce passa attraverso canali molto più veloci e un'altra cosa che mi è piaciuta del del film è la questione del del luogo no del della scelta del del centro commerciale che è anche presente in down of the dead c'è zombie il film da qui si è preso ispirazione nel nel film del 78 se non erro c'è proprio l'immagine di queste persone che entrano nel centro commerciale e alla fine non se la passano poi così male no anzi sono contornati di tutto ciò che desiderano se sentite rumori il mio gatto barba si è staccato il microfono si è staccato il microfono oggi è proprio così è mentre nel centro commerciale dicevo nel film odierno disdentere rappresenta la sicurezza no noi siamo dentro e loro sono fuori allora perché li dobbiamo fare entrare perché li passiamo qui dentro piuttosto muriamoci sempre di più ma ma stiamo qui dentro e poi il crollo di questa certezza quando in realtà i zombie entrano e quindi non si sa più chi è dentro chi è fuori chi è sicuro chi non è sicuro e lo trovo tra l'altro una cosa amaramente molto molto vicina a quello che stiamo vivendo adesso no questi due ultimi due anni no il chi chi è malato e chi non è malato che chi è sicuro e chi non è sicuro ecco mi è venuta questa questa riflessione io ho anche concluso ma sì no ma in effetti poi le riflessioni ecco ripeto qui potrebbero essere sterminati è chiaro che secondo me negli zombie c'è anche la una sorta di sottometafora della peste c'è anche questo discorso è la peste del contagio quello che viene morso e non lo dice e quindi per diventa pericoloso per il gruppo che magari sta cercando di mettersi in salvo altrimenti non si spiegherebbe perché poi è stata è stato è stata una di quelle figure talmente fortunate che poi sono entrate anche nel linguaggio comune no noi diciamo sei no zombie ti comporti come no zombie non essere no zombie insomma è veramente è una metafora riuscita secondo me dell'individuo nelle varie fasi dell'individuo di questo novecento che è stato il secolo breve ma in realtà ha avuto infinite trasformazioni ed era interessante anche quella cosa che diceva Aina sul leader perché effettivamente nell'ultimo film di Snyder che è uscito se non sbaglio proprio se non sbaglio quest'anno non me lo sono visto comunque su Netflix che Armi of the Death effettivamente abbiamo il leader zombie che è questo leader tra i più forti che chiaramente il più veloce il più crudele e tutto il resto che è individuo che individuo e si arrabbia per la compagna che viene appunto maltrattata insomma si ricostituiscono questi legami cosa che non esiste nello zombie massificato dove non è che uno provava qualcosa per l'altro zombie cioè si muovevano come una massa indistinta però tra loro non c'era nessun tipo di legame ecco in questi ultimi queste ultime metafore diciamo così dello zombie c'è di nuovo una individualizzazione un processo di soggettivazione ecco potremmo dire dello zombie ecco mi veniva ad aggiungere questo non so se Baina vuole dire qualcosa dunque una una riflessione a parte su su quelli che invece sono altre altre considerazioni che mi sono venute in mente cioè sul rapporto vabbè intanto sulla sull'enorme influenza che la figura dello zombie ha avuto sul sul cinema horror e non solo ci sono tantissime pellicole che ad esempio mostrano questi infetti che non sappiamo se sono esattamente zombie o come definirli no però appunto mi vengono in mente 28 giorni dopo mi viene in mente Rack che sicuramente è stato ispirato a sua volta la 28 giorni dopo e poi ci sono degli altri film che mi viene sempre in mente un altro film di Romero scusate se mi ripeto ma è la città verrà distrutta all'alba è uno dei suoi film minori diciamo del 73 che secondo me è molto bello perché appunto fa vedere questo questo virus che fa impazzire la gente e c'è anche una forte ovviamente componente antimilitarista che si ritroverà poi nel giorno degli zombie che il suo terzo capitolo della trilogia iniziale diciamo degli zombie comunque diciamo nella sua filmografia dedicata agli zombie perché ripeto poi si è occupato anche di altro anche se con alterne fortune anche gli zombie di Romero in realtà cambiano cioè non è che in tutti i film c'è lo stesso tipo di zombie appunto diventa più intelligente diventa cioè lui non vedeva in realtà nello zombie il male vedeva una nuova società ecco che che avanzava si sostituiva a quello esistente basta volevo solo dire questo va bene e allora non so Barbara se vuoi aggiungere qualcosa volevo solo dire che trovavo no no un film che non è stato secondo me citato e che io ho trovato delizioso sugli zombie e i morti non muoiono di Armush che secondo me è proprio una guida per iniziare a capire il mondo degli zombie in cui praticamente i personaggi sono quasi funzionali parlano con lo spettatore la musica diventa parte integrante del film e poi è bello perché gli zombie hanno una personalità nel film di Armush cioè nel senso che ognuno è zombie di qualcosa cioè nel senso che ognuno porta una volta diventato zombie rivela qual è l'ossessione che l'ha portato a non pensare quindi che non so c'è la signora che continua a ripetere chardonnay 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 i ragazzi con il cellulare chi con i videogiochi insomma a me è piaciuto molto perché si dava una proprio una peculiarità ad ogni ad ogni individuo zombificato facendo anche veicolare il messaggio che tutti noi quando cessiamo di pensare quando abdichiamo il nostro pensiero per qualcosa che ci fa fuggire dalla realtà rischiamo di diventare zombie basta e tant'è vero tant'è vero che in molti film di zombie i zombie vanno alla ricerca proprio del cervello e spesse volte è citato proprio come un mantra questo cervello cervello cioè quindi c'è questa alla ricerca di ciò che manca insomma nell'essere umano i morti viventi ad esempio si nutrono di cervello e poi visto che siamo in vena di citazioni beh l'alba dei morti dementi è vero è vero è vero delizioso e tra l'altro anche lì c'è la ricerca di un posto sicuro che questa volta non è il centro commerciale è il pub è veramente fantastico eh sì no diciamo che è un argomento praticamente infinito questo qua degli zombie noi abbiamo cercato di sintetizzare un po' qualche punto l'abbiamo detto facendo metacritica effettivamente questa volta perché siamo andati veramente oltre il film e quindi vi ringrazio sempre e alla prossima grazie a voi 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 grazie a voi